Questo pomeriggio a Piazza Scotti nel municipio XII di Roma insieme al nostro candidato sindaco siamo orgogliosi e fieri di averlo qui al nostro fianco, vero Enrico? Ma guarda, io sono venuto soprattutto perché questo è il mio quartiere e poi c'è un grande candidato alla presidenza, Massaro e vi invito a votarlo perché è una persona che già ha dimostrato di saper fare, una persona che si impegna a passione, una persona per bene e quindi ha tutto il mio sostegno. Grazie Enrico, bocca a l'uomo. Grazie. Grazie.